E' allo stesso tempo che si prendono, come fanno? E' fisicamente... Fregni! Ma se proprio prendi così? Pregni! Pregni i giochi! Io oggi parlo, ora se tu non chiudi gli occhi noi non possiamo fare i giochi La profe... Il telefono la fregni Se mi stai, sta a favore Su un dibattito Ah! Fa! Ah po! Ah! Di bestia! Scusa ma su YouTube stanno 15 minuti di video Si ma questa qua consuma il doppio di mega Oh rubanenza ruban... E com'è che la stampa... No aspetta... La stanza di Bruno La stanza di Bruno Chiama a caso La stanza di Bruno